Io sono Elisa Fedi, vengo da Ginessa Fiorentina, ho 21 anni e mi piacerebbe partecipare a questo reality sicuramente perché è un qualcosa di attenente a quello che sto studiando e poi perché mi piace viaggiare, fare sport e comunque mi adatto bene a tutte le situazioni. L'esitazione la faccio da quando sono tipo cinque anni e non tutti i giorni ma quasi monta a cavallo, facciamo trekking a cavallo. La grande, eh vabbè, sì, intanto trovare un lavoro che non sarebbe poco e poi niente, avere una casa in campagna come adesso, una bella famiglia, magari tante le vali. Grazie. Grazie.